Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Schede Grafiche AGP XFX Radeon HD. XFX HD 7870 Black Edition 2048 MB, PCIe, 2XDVI, HDMI, 2XDP. Grafiche I Artenati I. XFX. XFX 787 ACDBC. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.